dobbiamo fare tipo un coso scritto quando se ha le prox è quello con i prox le carte girate sono prox io lo mettiamo davanti a casa dai un dato salvo lasciarlo non so non so non so dai due colpi dovrebbe preso molto di più vado bellissimo questo dato fa schifo è di Geroldi infatti Geroldi ti odio vada a fare uno e sei l'hai smalzato? e tre guardate quando hai fatto un lato vedete guarda guarda è stato un dato partita di posso criticare? si guarda guarda il primo è start of the ringage guarda guarda non so qual cosa è la lista è la lista di pollito è la lista di pollito è la lista di pollito l'utenzione palla terni è riuscita sottotitoli sottotitoli ho avuto una mano questa strada non è venuta in gage non ne ha avuta la mano buona No, 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 guarda, ci sarebbe la stile. Preocupate. Lo spacco questa. Effetto. Dai, no, chi fosse lo vuole, effetto. Ultra vero. Ultra vero. No, no, no. Non lo dite, non c'è il videofibro, se noi... La prossima cosa che c'è il videofibro, se noi... Guarda, guarda, me la la so. La tua vita ha detto una cosa intelligente, non c'è qualche bagno che viene a gente che è così. Ma no, non ci può chiamare più, perché... Non c'è la mia cosa... E' la mia cosa. Non c'è una morta... Oh, no, 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 al zero, la mia... Non mai ho visto la mia cosa. E faccia affatto in me. Non ho mai fatto anche il mezzo. Non vediamo se vada di fattuto. Non puoi fare tipo... Se mi metterà utile a mezzo, se mi faccia un pezzo, non... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.